se sei un fan di beautiful allora non puoi perderti le anticipazioni della puntata di domani 7 maggio 2024 la trama si fa sempre più avvincente con sheila e bill che uniscono le forze contro tutti gli ostacoli il personaggio di spencer è totalmente sotto il controllo della perfida rossa e farà di tutto per farla uscire di prigione sheila è finita dietro le sbarre ma bill è determinato a liberarla steffy e fin si trovano impotenti di fronte alla proposta assurda fatta da bill per proteggere sheila la situazione si complica sempre di più con la coppia che si trova costretta a fare scelte difficili la polizia è finalmente riuscita a catturare sheila ma la donna sembra essere fiduciosa sulla sua imminente liberazione bill è sempre più affascinato da lei e fa una proposta scioccante a steffy e fin per farla uscire di prigione la coppia si trova di fronte a un dilemma morale che metterà a dura prova il loro rapporto nelle puntate precedenti steffy e fin avevano finalmente consegnato sheila alla polizia per metterla dietro le sbarre tuttavia l'intervento di bill ha cambiato completamente le carte in tavola l'imprenditore minaccia di rivelare segreti del passato per proteggere sheila mettendo a rischio l'equilibrio della coppia se sei curioso di scoprire come andrà a finire questa intricata situazione non perdere l'appuntamento con beautiful le dinamiche tra i personaggi si fanno sempre più complesse promettendo colpi di scena e emozioni forti non perdere l'occasione di seguire le prossime vicende di questo avvincente mondo televisivo non perdere l'occasione di più